Salve a tutti e benvenuti nella venticinquesima parte della guida Kirby Superstar. In questa parte concluderemo Metal Knight Nero Ultra. Guardate, questo è l'eroe che l'astronave ha evocato. L'eroe micidiale. Ok, combattiamo! Ha evocato un tornado. Meno male, per ora non ho subito grandi danni molto elevati. Poi amoci. Ok, fra un po' userò il match tornado. Ok, sconfiggiamo questo mostro e ora userò il match tornado. Ok, match tornado! Potenza al massimo! Non credo di averlo sconfitto purtroppo. Stiamo da qua, abbiamo evitato il sottacco. Forza, devo combattere... ...per i due mondi! Ma che sto dicendo? Ok, ho sconfitto l'eroe più potente della galassia. Guardate, lo abbiamo sconfitto! Perfetto, signori! Ce l'abbiamo fatta! Ok, il nostro Metal Knight ce l'ha fatta! E ora il sole e la luna non vi sticciano più. Fino! Grazie a tutti! Ok! Abbiamo completato il Cavaliere Nero Ultra. Sì, mi sembra quasi vero. Anzi no, guardate, non mi sembra più vero di averlo complicato. Ok, ce l'abbiamo fatta. Guardate un po'. Che cosa sta succedendo a Dreamland? Ecco il Cavaliere Nero che ha trovato la pace esteriore. Ok. Per questa parte del Cavaliere Nero Ultra e della guida a Kirby Superstar è tutto. Ci vediamo tra poco per vedere le novità apportate da Kirby. Scusate. Salve a tutti, signori. Bentornati. Dopo tutti i vari ringraziamenti del gioco probabilmente ci ritroviamo qui. Abbiamo sbloccato dei filmati bonus Vula Metal Knight e Kirby Samurai. Esatto, signori. Li abbiamo sbloccati. Ora abbiamo completato quasi tutti questi livelli e ora inizieremo a fare un po' i minigiochi. Prima iniziamo con Castry Snack. Ok. Ok. Prendi questo gioco bisogna distruggere tutto quello che c'è nella propria corsia e non perdere. Cambio nastro. Oddio, scusatemi, non avevo proprio capito. In poche parole la frutta bisogna prenderla. Sono le bombe che bisogna lanciare. Io invece stavo distruggendo le bombe. Ok. Rispediamo la bomba al mittente. Oh oh. Mi hanno spedito tutte le bombe a me. Ok, fine. Questo minigioco non sono stato proprio il massimo, devo ammettere. Perché non avevo proprio capito come si giocava. facciamo il livello 2. Via! Eh, voglio riprovarci. Ok. Prendetevi la vostra bomba. Oh no! Io ho perso. Ma non vale? Ma mi tirano tutto a me, no? Poche parole questi minigiochi sono così per divertirsi. Devo dire che sono carini. Cambio nastro. Anche se io non sono molto dotato di questi minigiochi. Ok. Poche parole i bruchetti bisogna ucciderli. e anche le bombe. No, è certo. Me lo tirano a me le cose. Ma nessuno sbaglia, scusate. Eh, vabbè, è difficile. Tutti i bruchi mi arrivano. non vale! Hanno truccato l'arbitro. Che pigio. Come al solito. Oh, povero Kirbino. Ok. Continuiamo. Con il livello 3. via! Certo, è chiaro che perdiamo questo minigioco, però ormai finiamolo. Io così l'ho fatto tanto per divertirmi e per mostrarvelo bene com'era. Mannaggia! Mi tirano le bombe! Questi gammati i bruchi! Eh, ti pareva, no? Mi buttano la bomba a me e mi sembra. Ma da dove no! Oggi non ci sto cavando niente! Ok, ce la possiamo fare. che bruchetti malefici. Ah, informazione che ho appena scoperto. Anche i massi bisogna buttarli. Esatto. I massi bisogna romperli. E scusatemi signori ma io proprio qua è insostenibile le faccende. Ok, vediamo chi ha vinto. forse io, eh. No, peccato, volevo vincere io. No, no, no. Usciamo. Avete visto il minigioco Castry's Neck? E ora vedremo Kirby Pistolero. questo già mi piace di più. Livello 1. In poche parole dovremo sparare ai nostri perzai. Ok, l'ho colpito io questo. troppo veloce questo. Ok. Però è un po' strano escono i colori solo di questo. 40, sì. Ricarichiamo. Va bene, 140. 40. Ok, fine. Questo potrebbe essere divertente, ma la mia disabilità mi ha fatto perdere. proviamo a vincere il secondo che questo già mi piace più di me. Ok, 10. 10! E no, non vale! No! Abbiamo ricaricato. E vai! Ben 40 punti. 20 punti. 10 punti. Ricarichiamo. Mannaggia. Mi stanno tutti recuperando. Non vale! Ok, abbiamo fatto un bel po' di punti. Ce l'abbiamo quasi fatta. Ok. Abbiamo finito le munizioni. scusate l'interruzione ma mia madre mi doveva dire una cosa molto importante. Non ho visto neanche quanto siamo arrivati penso ultimi. sì, non è una unità per me. Sono scarichi. Ma non vale che mi si scaricano! sono negato! Sono negato! dai che posso recuperare! Sì, vabbè, questi... non è... aiuto! aaaaaaah! prezisterica! è un bel siamo arrivati i primi! Eh, già, vedete, la bravura? Sì! Bello! Voglio riprovarci! Mi devo impegnare! Dai, per ora sono terzo! Quarto! Terzo! Terzo! Quarto! 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 Accidenti! Ma come fa il ventesimo? Come fa il cavolo? Il verde che fa tutto! Vabbè, però siamo migliorati, potevo ammettere. Nell'ultima prova abbiamo dato il meglio di noi. usciamo. Ok, avete visto questi due. Ora facciamo Kirby con... Kirby carta giusta. Tocca la stessa carta sul touch screen, tocca altre carte giuste per prima e vincerai. Proviamo tutti i vari livelli. Oh no! Non vale! Rifacciamo. va bene. Va bene. Ma certo, non capisco perché... ora si capisco che ho capito. Dobbiamo aspettare. Visto quale sarà. Abbiamo vinto! Sì, il nostro Kirby c'è da qua. ok. Vediamo ora... Non è il Goopo. Infatti, era il Goopo. Perché l'uccello ce l'avevamo già battuto. Quindi, ora vediamo. Ninja già l'abbiamo fatto. Quindi è una di queste tre. E vai, tre. Oh, è la prima volta che vinco a fine gioco, signori. Applaudite, eh? Ok, abbiamo vinto! Sì! Perfetto. Non vi mostro gli altri perché sono tutti uguali. Ok. Ok, ora nella prossima parte tratteremo di Kirby Samurai. A presto!